Sono Anna Maria Testa, mi occupo di comunicazione e diversi anni fa mi sono imbattuta in una realtà tanto drammatica quanto sconosciuta. Ogni anno nel nostro paese migliaia di bambini subiscono incidenti domestici anche gravi, centinaia restano invalidi per sempre oppure muoiono. Ho pensato che dovevo e potevo fare qualcosa. Sono andata all'ospedale dei bambini buzzi di Milano chiedendo che cosa si fa per prevenire gli incidenti o per intervenire quando un incidente grave capita. Sono casi rari ma possono sempre succedere. Ho ricevuto delle lunghe spiegazioni molto convincenti ma in medichese stretto e ho tradotto tutto in italiano semplicissimo, è il mio mestiere. È così semplice da essere comprensibile anche a una tata o a un nonno o a un fratello un po' maggiore. Tutto questo poi è diventato con l'aiuto gratuito di tantissime persone un video distribuito in quasi un milione di copie che negli anni ha evitato tanti guai a tanti bambini. Oggi le indicazioni europee per il pronto soccorso sono cambiate. Abbiamo rifatto questo video con le nuove indicazioni e sto chiedendo a tutti voi di guardarlo, di dedicare mezz'ora del vostro tempo per capire che cosa fare quando qualcosa di grave succede e soprattutto come prevenire che qualcosa di grave succeda. Insieme alla mia testimonianza sono online le testimonianze di quattro genitori che hanno salvato la vita dei loro figli avendo imparato come fare. Fatele girare, fate girare l'indirizzo del video, informatevi, dedicate mezz'ora del vostro tempo per sapere come si può salvare una vita. Grazie.